Anticipazione Tempesta d'Amore Lunedì 24 giugno 2019 Denise è sconvolta dallo scenario che si palesa di fronte ai suoi occhi quando giunge presso il luogo in cui è avvenuto l'incidente di Tobias e non si perde d'animo fa di tutto per prestare soccorso ai feriti intanto il fidanzato di Boris arriva in ospedale ed è chiaramente in condizioni disperate chi custodisce la verità sull'accaduto inoltre non vuole parlare Robert è fuori e Christophe ed Eva vivono dei magici momenti la donna è sconvolta quando rivede il marito e preferisce mentirgli la donna è sconvolta inoltre non vuole parlare